Il terrore non arriva solo da terra ma anche dal cielo. La cittadina siriana di Gisrael Shugur continua a venire colpita dall'attiglieria e dagli elicotteri delle forze fedeli al presidente Assad. La popolazione tenta di lasciare il centro abitato e colonne di profughi si dirigono verso il vicino confine turco. Alcuni di loro hanno raccontato di nuove spaccature tra i militari. Da una parte i fedelissimi del regime pronti a tutto per reprimere la rivolta che prosegue da ormai tre mesi e dall'altra alcune unità che si sono rifiutate di sparare sulla popolazione. Oggi in Turchia si vota e la crisi siriana preoccupa il premier Erdogan. Al confine si rischia una crisi umanitaria anche se i campi allestiti per accogliere i rifugiati sono stati tirati su in pochissimo tempo. Ankara ha ormai mollato l'alleato siriano, invece il consiglio di sicurezza tentenna e si spacca sulla risoluzione di condanna.